ciao a tutti e benvenuti nel canale oggi vi voglio presentare Svacation che è un'agenzia viaggi con la quale ho viaggiato ho fatto la mia ultima vacanza che devo dire mi sono trovata molto bene è una vacanza al top e loro mi hanno fatto conoscere questo posto che non conoscevo io ho conosciuto Svacation tramite l'internet per me è stata una sorpresa ho scoperto questa vacanza ho fatto un sondaggio poi loro mi hanno contattato mi hanno offerto varie tipologie di vacanze tra cui anche quella a Malaga con mia grande sorpresa a pochissimo ne ho approfittato però poi mi sono un po' pentita perché pensavo fosse una bufala che non era possibile viaggiare così a basso posto e invece no con mia grande sorpresa ho scoperto che tutto quello che loro hanno promesso io l'ho trovato e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta ho visitato dei posti favolosi praticamente cosa succede che loro ti ottono una settimana di vacanza in un residence a 5 stelle con tutti i confort possibili immaginabili io addirittura avevo anche l'idromassaggio in bagno avevo una lasca con l'idromassaggio e il viaggio no il viaggio me lo sono pagata io tanto i voli low cost li trovi sempre però la vacanza la settimana in quel resort l'ho comprata da loro e a pezzi veramente stracciati voglio farvi partecipe così potete andare a visitare potete andare anche vedere un'agenzia di busta al sezio vi lascio qui sotto nell'infobox vi lascio il loro sito internet qui che potete vedere tutti i posti che loro propongono mar rosso marocco la spagna le città europee l'italia c'è di tutto e di più e si stanno sempre più anteando e nel loro sito trovati anche i prezzi della settimana di vacanza quindi davvero ci sono posti veramente favolosi come quello che io sto facendo vedere qua dietro e ne vale veramente la pena di visitarlo e devo ancora fare complimenti a s vacation perché comunque un'agenzia molto molto seria al top vi lascio un breve video così potete vedere un attimo come l'appartamento le zone in cui sono stata e vi saluto un like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al mio canale se non sono se non siete ancora iscritti non siete ancora iscritti ciao 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 ciao